Come riparare un pezzo di recensione danneggiata. Vi do qualche consiglio per farlo al meglio. Ciao a tutti, sono Marco di Fanshop, Fanshop che è l'e-commerce di Rete Plastic. Allora, introducevo nel video una classica situazione, può essere capitato in novitre parecchie, un albero che è caduto su una recensione, uno in macchina che stava guardando gli uccellini e è andato a finire contro la vostra recensione. Insomma, un pezzo di recensione che è stato distrutto, danneggiato e dovete cambiarlo, ma ovviamente non volete rifare tutta la recensione, tutto il lavoro. Quali accortezze dovete usare, quali consigli vi posso dare, ve li do appunto in questo video, per fare il lavoro al meglio, nel minor tempo possibile e soprattutto nel miglior modo possibile. Partiamo subito. Punto numero uno, dovete individuare il primo palo destra e il primo palo a sinistra, buono, che è rimasto utile, buono, dritto, sano. Mi raccomando, non la rete, ma il palo. Se la rete è stata danneggiata in un certo punto, non limitatevi a tagliare lì la rete, no. No, andate al palo prima, sano, e andate a individuare appunto questi due punti principali, punto uno e punto due. Secondo passo, andate a saettare questi due pali che avete individuato come? Con delle saette, guardate appunto la foto, ovviamente le saette andranno messe nella direzione della parte sana, quindi esterna al danno. Mettete una setta provvisoria in punta al palo che scenda giù sul muretto o sull'altro paro, non importa, l'importante è che tenga la trazione. Oppure, se non volete mettere le saette perché non l'avete, perché è un costo, perché non sapete, potete mettere un filo di tensione con un tirantino. Tutto quello che sto dicendo è provvisore, sia la setta che il filo di tensione sono lavoretti provvisori, ma sono fondamentali. Dicevo, potete mettere un filo di tensione nel senso opposto, perché la setta tiene la trazione, la compressione tiene. Il filo di tensione messo nel senso opposto, guardate le foto appunto dove è tratteggiato, quello è un filo che va a tenere la trazione contraria. Come legate questo filo? Potete legarlo al paletto successivo, mettete un tassello nel muro, non importa, un picchietto, qualsiasi cosa che vada a fare forza, appunto, per aiutarci nel punto successivo. Punto 3. Una volta che avete saettato questi primi due pali, destro e sinistro, sani, che li avete ben fermati in un modo o nell'altro, ora sì, potete andare a tagliare la rete. Dove la tagliate? Consiglio, di finezza, ma consiglio, tagliatela sulla linea del palo, a filo palo, in modo che quando poi farete la giunta si vedrà il meno possibile. Immaginate una giunta tra un palo e l'altro, direte, cavolo, ce l'avete proprio davanti agli occhi, per un metro in più magari di rete andate a tagliarla un po' di più sul palo, in modo che poi quando la giunterete si vedrà poco. Tagliate la rete e tagliate anche i fili di tensione. I fili di tensione, se potete, lasciateli un pochino più abbondanti rispetto a come vi ho detto di tagliare la rete, c'è sempre poi tempo a tagliarle ancora comunque. Quarto punto, iscriviti al canale se non è ancora fatto, parliamo di recensione. Quarto punto reale della prosecuzione dei lavori è questo, andate ora a ritirare i fili di tensione nuovi in quel tratto danneggiato, tre fili di tensione, li mettete in trazione, potete andare a sostituire la rete, quindi prendete un pezzo di rete nuovo, andate a legarlo appunto agli estremi come vi ho detto, cercate soprattutto di tirarla, se il lato è corto, 2-3 metri, tiratela a mano. Se il lato è lungo, 15-20-30 metri, per sfiga vostra, dovrete magari necessariamente utilizzare uno strumento, vi lascio il link in descrizione dei video che ho fatto sia su come posare una rete che su come tirarla, quindi vedrete poi, andatevele a vedere se avete qualche dubbio, ma il lavoro da fare in questo step è quello appunto fili, rete nuova e legare. Quinto ed ultimo punto, voi avete la vostra recinzione rimessa su nuova, tirata, legata, finita, finita, proprio alla fine, andrete a togliere, a eliminare quelle sette che vi ho detto prima all'inizio, quei fili che avete messo per contrastare le forze. Bene, in questa fase del lavoro le forze si contrasteranno, quelle esterne contrasteranno quella centrale e viceversa. Tutto in trazione, quando andrete a togliere l'assaetta o i fili potrebbe sestarsi un attimino la recinzione, ma in linea di massima, se avete fatto le cose bene, come vi ho detto, rimarrà ferma. Vi sono stato utile? Beh, spero proprio di sì, dai. Io vi ringrazio dell'attenzione, vi rimando al prossimo video, vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale e alla nostra community Facebook. Lasciatemi commenti, se ne avete, ditemi la vostra, mandatemi delle foto, sono molto curioso in questo senso, potremo discuterle insieme. Vi ringrazio, al prossimo video, ciao a tutti!